Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePah17 e oggi siamo tornati velocemente su Splatoon per un video brevissimo in cui devo praticamente farvi due annunci Il primo di questi riguarda le partite che dovevamo giocare online oggi su Splatoon, oggi venerdì 20 novembre dalle ore 14 alle ore 14.30 Come avete visto praticamente non mi sono collegato, vi spiego subito il motivo Ho avuto un piccolo problema ragazzi questa mattina extra YouTube e quindi non sono riuscito a tornare a casa in tempo per collegarmi online e non sono riuscito neanche a comunicarvelo in anticipo Vi chiedo in primis scusa, lo sapete benissimo che ragazzi se posso vi avverto prima se ci sono dei cambi d'orario oppure no Però purtroppo non sono riuscito neanche ad avvertirvi e quindi vi chiedo due volte scusa Comunque ragazzi non preoccupatevi perché queste mische e mollusche che dovevamo giocare oggi le giocheremo comunque questa settimana Quindi le andremo a recuperare domenica 22 novembre dalle ore 14 alle ore 14.30 Quindi questa domenica ragazzi vi aspetto online sul profilo Joppa17Splat2 Quindi il profilo che avrei utilizzato oggi Vi spiego subito perché le avevo piazzate alle ore 14 Visto che alcuni di voi mi hanno detto eh ma sono a scuola non riesco a collegarmi e così via Le avevo piazzate a quell'ora perché purtroppo ho degli impegni extra youtube che mi impedivano Ragazzi ho degli impegni extra youtube oggi che mi impedivano di piazzarle più tardi Perché so che di solito fino magari alle 3 alle 4 voi siete a scuola normalmente E quindi per quello che di solito le piazzo dalle 6 e mezza alle 7 Magari dopo scuola, dopo i compiti, un attimo prima di cena, vi volete rilassare di fronte alla Wii U Quindi ci possiamo beccare e giocare su Splatoon o giocare comunque online magari anche su un altro gioco della Nintendo tipo Mario Kart 8 Quando le piazzo alle ore 14 perché semplicemente non potrei piazzarle in nessun altro orario Proprio per una questione riguardante i miei impegni extra youtube ragazzi Adesso ragazzi direi di passare al secondo annuncio che riguarda praticamente il fatto che ultimamente ho piazzato tantissimi video di Splatoon sul canale Vi spiego subito il motivo, questi video sono quelli che avevo già registrato in precedenza Perché se avete visto sono le mische mollusche che abbiamo giocato la scorsa settimana Quelle di questa settimana arriveranno a breve Però vi dico subito che sto aggiornando il mio equipaggiamento che utilizzo per registrare, per editare e tutto E quindi una volta che l'avrò aggiornato probabilmente magari sarò anche in grado di portarvi due video al giorno Adesso devo vedere un attimo, comunque sicuramente alternerò un po' di più le serie Però in questo momento sto aspettando che mi arrivi questo nuovo equipaggiamento Quindi ragazzi vi chiedo di portare un attimo di pazienza Non mi sono dimenticato serie come PES 2016 Road to the European Cup Minecraft Story Mode Pikmin 3 Lo Splatoon Road to Rank S Plus Lo Splatoon Challenge Ragazzi queste serie non me le sono dimenticate Tranquilli, poi ve ne porterò naturalmente altre Però sto solo aspettando questo nuovo equipaggiamento che mi arriverà diciamo a giorni oramai Penso all'inizio della prossima settimana Quindi spero di riuscire ragazzi a portarvi anche più di un video al giorno Vi chiedo solo però un attimo di pazienza Ragazzi concludo qua questo video brevissimo Era solo per farvi questi due annunci Spero comunque che vi sia piaciuto Se avete magari dei commenti scrivetemeli pure qui sotto E come sempre ragazzi Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate, condividete, iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui su Splatoon Alla prossima ragazzi Ciao